Buon pomeriggio e benvenuti all'appuntamento con il nostro Tg regionale, siete sul canale 15 e partiamo subito con la politica locale. In apertura di questo giornale ci occupiamo delle dimissioni dell'assessore comunale di Crotone, Rachele Via. Nei giorni scorsi l'elezione di Mario Megna a presidente del Consiglio Comunale in quota Forza Italia allarga dunque la maggioranza anche al partito di Berlusconi. Oggi le dimissioni divia ufficialmente perché non condivide più il progetto di Vincenzo Voce. E così ha incontrato la stampa, per noi era presente Massimo Carlozzo. Sentiamo e vediamo. Nella lista Tesoro Calabria raccogliendo 374 voti di preferenza, Rachele Via dopo due anni e qualche mese si è dimessa da assessore comunale della giunta guidata dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Le ragioni della sua scelta le ha volute esplicitare nel corso di una conferenza stampa, nel corso della quale ha ricordato intanto il lavoro svolto sempre con grande impegno. Ma la professoressa che ora torna all'insegnamento si è tolta anche qualche sassolino dalle scarpe, sottolineando che molte volte è stata estromessa da questioni che per delega avrebbe dovuto seguire. Insomma, per Rachele Via sono venuti meno i presupposti che erano alla base del progetto politico del sindaco Voce. La mia decisione di dimettermi non è un passo indietro, è invece una decisione che nasce da una consapevolezza di un impegno che io ho preso abbracciando un progetto di cambiamento e dal cui progetto oggi ho perso le tracce. Quindi, ripeto, ci tengo a sottolinearlo, non è da parte mia un atteggiamento rinunciatario, è l'atteggiamento responsabile di chi tra l'altro si è candidato, ha preso voti, e ha chiesto voti per la realizzazione di un progetto di cambiamento e che questo progetto spera di realizzare più avanti, ma non adesso, non ora. Quindi prende le distanze dal sindaco e dalla giunta? A prendere distanze da questa amministrazione, sì, chiaramente. Qual è stato il motivo che l'ha spinta a lasciare questo progetto che però per due anni ha abbracciato? Allora, sì, è un progetto che ho abbracciato con entusiasmo sin da subito, che ho portato avanti e che per ammissione dello stesso sindaco, insomma, adesso soffre di distrangiamenti, di fragilità. Solo che, ecco, la mia presa di distanza viene dalla, io dissento da questa modalità di risolvere queste fragilità, aprendo a vecchie logiche appartenenti anche alla vecchia politica. A cosa si riferisce? Mi riferisco all'ultimo Consiglio Comunale, alle dimissioni del Presidente Greco, alle quali è seguito un avvicendamento di Presidenti del Consiglio. Mi riferisco anche alle continui rimpasse di ingiunta, che sono comunque un segno di debolezza, non solo un segno di forza. Novità importanti invece arrivano dal Senato, perché fino a tutto il 2023 saranno sospesi i pignoramenti a danno delle aziende sanitarie. Questo significa che si potrà finalmente chiudere con il ripiano dei debiti e ripartire con la programmazione. Approvata la norma che modifica il decreto Calabria, soddisfatto Roberto Chiuto. Il decreto Calabria è stato approvato dall'Aula del Senato rispettando i temi che auspicavamo e adesso andrà alla Camera per il via libera finale. Nel passaggio parlamentare il provvedimento ha ricevuto importanti miglioramenti che ci permetteranno di cogliere al meglio le opportunità messe in campo da questa norma. Lo afferma in una nota Roberto Chiuto, Presidente della Regione Calabria. Innanzitutto si interviene sulla governance delle aziende. Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri permetteva al commissario ad acta, cioè allo stesso occhiuto, di nominare i commissari delle aspe delle aziende ospedaliere. Adesso, con le modifiche introdotte, sarà possibile nominare anche i direttori generali. Ma la novità più importante riguarda la possibilità di intraprendere azioni esecutive a carico delle aziende sanitarie. Una sentenza della Corte Costituzionale sembrava avere reintrodotto questa possibilità, ma il Senato è intervenuto con una specifica modifica approvata nel cosiddetto Decreto Calabria, stabilendo che le azioni esecutive sono sospese fino al 31 dicembre del 2023. Si potranno fare solo quelle che riguardano crediti da lavoro e crediti risarcitori. Le aziende sanitarie calabresi potranno dunque ripianare i propri debiti senza il rischio di incorrere in operazioni di pignoramento o di recupero coatto da parte dei creditori. Per occhiuto una buona notizia, che ci permetterà di concludere con tranquillità, ma anche con tanta determinazione, l'azione intrapresa dal Governo regionale, con la fattiva collaborazione della Guardia di Finanza per l'accertamento del debito della sanità calabrese, per sanare i bilanci, pagare coloro che devono essere pagati e ripartire con programmazioni e investimenti. Non si può andare più avanti in questo modo. Gli ospedali SPOC vanno potenziati. Da qui il grido di dolore che porterà in piazza i cittadini a Castrovillari il 17 dicembre. Questi SPOC, Castrovillari in primis, ma anche Paola Cetraro, Rossano Corigliano, continuano a essere sempre più finti e sempre più incapaci di dare risposte alle necessità di salute vere delle popolazioni. Non si può andare avanti in questo modo. Basta parola il momento dei fatti conseguenziali dell'apertura di una grande vertenza che ottenga le ragioni perseguite da tempo. E allora il 17 dicembre tutti in piazza per una mobilitazione comprensoriale con le municipalità, sindacati, associazioni e scolaresche per riaffermare l'impegno di tutti nel dare maggiore dignità ai presidi e ai livelli essenziali di assistenza sempre più all'omicino. E' ciò che è emerso dal tavolo permanente della Commissione Territoriale per la Sanità, convocato dal sindaco di Castrovillari, Mimmonopolito, che ha visto insieme il consigliere regionale Ferdinando Laghi, i sindaci di Lungro e Mormanno e i sindacati Cigelle, Cisle, Guille. Noi porteremo le proposte di tante cose che sono immediatamente realizzabili, che possono dare risposta innanzitutto per svuotare il pronto soccorso, per far respirare i reparti e in modo particolare per dare risposta alla maggior parte delle persone che si rivolgono al pronto soccorso di Castrovillari. Passo per passo. Adesso il passo non più rinviabile, altrimenti si tratta di presa in giro, è quello della riabilitazione intensiva che l'ospedale di Castrovillari aspetta da oltre dieci anni e che permetterebbe di collegare tutto il territorio, compresi gli ospedali di Mormanno e di Lungro, in un unico continuum assistenziale che le nostre popolazioni non hanno mai avuto e di cui da sempre hanno diritto. La popolazione non ce la fa più perché i bisogni continuano a crescere ed è importante che anche i commissari, il commissario provinciale dell'Asp di Cosenza, ma anche il commissario regionale, il Presidente Roberto Chiuto, capisca la situazione anche di questo territorio, che è un territorio anche lontano dai centri urbani, dai grandi agglomerati e che ha bisogno di una grande spinta. Se le risposte non ci saranno, il 17 non sarà l'apice di una protesta, ma sarà semplicemente la partenza della stessa. Con questo spirito gli iscritti al sindacato di Cigelle e Gisleguil saranno in piazza il 17 con le loro bandiere, con i loro colori, con le loro rivendicazioni sicuri di avere finalmente le risposte che meritano. Il Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, è in Calabria per il cosiddetto giudizio di parificazione della Regione Calabria. Stanno venuto davvero volentieri in primo luogo per manifestare l'attenzione mia personale della Corte dei Conti verso gli uffici di questa Regione e di questa Corte che operano in questa Regione, che è una Regione nella quale le criticità e i problemi sono tantissimi. Ovviamente noi faremo la nostra parte per venire incontro alle esigenze degli uffici calabresi. Il momento in cui si celebra oggi il giudizio di parifica del rendiconto è particolare per una serie di eventi di carattere economico determinati anche dalle difficoltà che il nostro Paese ha dovuto affrontare con la pandemia. Carlino ha richiamato al massimo impegno e alla massima responsabilità tutte le istituzioni politiche, tra queste ovviamente anche la Corte dei Conti. Assolutenti è preoccupata per Natale. Il governo Meloni ha riproposto le uccise sulla benzina e chi si sposta pagherà assalato. L'allarme lanciato all'Expo Consumatori. Dalla mezzanotte si è dimezzato lo sconto sui carburanti con l'aumento delle accise su benzina, gasolio e GPL. Un rialzo di 10 centesimi previsto dal governo Meloni con il decreto accise dello scorso 23 novembre. Il rialzo accise peserà come un macigno sul Natale degli italiani. Solo a dicembre maggiori incassi per lo Stato stimati in 317 milioni di euro. L'allarme arriva dal presidente di Asso Utenti, Furio Truzzi, nel corso di Expo Consumatori, la Kermes dedicata al mondo dei consumatori organizzata dall'Associazione. I consumatori dovranno fare i conti con listini di benzina e gasolio più cari di 12,2 centesimi di euro, aumenti che si aggiungono ai rincari dei prezzi che hanno portato l'inflazione a livelli record, ha spiegato Truzzi nel suo intervento. Una misura che equivale, considerando una media di due pieni mensili a famiglia, a circa 317 milioni di euro di maggiori entrate per le casse dello Stato nel solo mese di dicembre. La decisione del governo sulle accise arriva in un momento in cui milioni di cittadini si sposteranno lungo la penisola in occasione delle festività e graverà sulle tasche delle famiglie non solo attraverso costi di rifornimento più elevati, ma anche come effetto indiretto su prezzi e tariffe in numerosi comparti. Per questo invitiamo il governo Meloni a rivedere la sua decisione sui carburanti, aumentando il taglio delle accise almeno fino al termine dell'emergenza prezzi e bollette in Italia, in modo da alleggerire la spesa delle famiglie. 20 milioni di finanziamenti per i consorsi di bonifica serviranno per installare misuratori allo scopo di ridurre i consumi idrici anche in campo agricolo. 20 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria attraverso fondi del PSR ai consorsi di bonifica per l'installazione di misuratori sulle reti in rive per un risparmio idrico, così l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallò. La siccità è una grave emergenza a livello nazionale, lo è anche in Calabria. Nei prossimi anni ci saranno grossi investimenti che i nostri consorsi di bonifica faranno avendo ottenuto finanziamenti cospicui da parte del Ministero e attraverso i fondi del PNRR. Accanto a questo sarà necessario lavorare sul risparmio idrico e il risparmio idrico si può ottenere anche attraverso l'installazione di misuratori. Per cui finanziamo 20 milioni attraverso fondi PSR ai consorsi di bonifica calabresi per fare in modo che vengano applicati i misuratori sia sulle reti principali sia sulle reti di distribuzione affinché ci possa essere come conseguenza il risparmio idrico. Occupiamoci adesso dei furbetti del reddito di cittadinanza. 26 persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Catanzaro nell'ambito di un'indagine per false dichiarazioni mirate ad ottenere il reddito di cittadinanza. I militari delle stazioni di Squillaccio, Pentone, Marcellinare e Gimigliano hanno accertato che i furbetti avevano chiesto ed ottenuto il sussidio pur senza averne i requisiti. Il danno per l'erario è di pari a circa 196 mila euro. Gli accertamenti hanno consentito di scoprire quanti avevano dichiarato informazioni non corrispondenti al vero nel tentativo di indurre in errore l'Inps ottenendo così un ingiusto profitto. Tra le anomalie riscontrate ci sono quelle commesse anche da chi aveva percepito un reddito da lavoro dipendente. Cambiamo argomento. Un teatro, un attore, un avvocato e un pubblico a cui parlare di talento, impegno, grinta, perseveranza e di personaggi che grazie a queste peculiarità sono diventate icone da prendere come esempio. Grinta, impegno, costanza, perseveranza e talento spesso nella vita di tutti i giorni occorre avere queste peculiarità per superare le difficoltà o per raggiungere determinati obiettivi. Ma come ci si arriva? Magari sfruttando oggetti o location particolari se un pallone di calcio di basket sono serviti a Maradona e Michael Jordan per sconfiggere la povertà. Un'aula di tribunale e un palcoscenico possono essere i luoghi giusti per mettere in pratica l'impegno e la perseveranza e quello che hanno provato a spiegare l'attore Carlo Gallo e l'abbocato Francesco Verri coppia eterogenea come non mai al cospetto di un nutrito pubblico nel teatro della Maruca a Crotone. Oggi facciamo un esperimento il tentativo di discutere di grinta, di impegno di costanza, di durata di perseveranza, di resistenza in un teatro con un pubblico che vuole ragionare insieme a noi a proposito di queste cose. Veniamo fuori da un periodo molto difficile molto complicato. La pandemia ha interrotto rapporti, relazioni, legami ha inciso profondamente nelle nostre vite e ha smorzato entusiasmo e ridotto la grinta. Allora forse recuperare il filo di questo ragionamento è utile. Parleremo del talento e del fatto che il talento da solo non basta che serve sforzarsi che serve impegnarsi a fondo e cercheremo anche di trovare il modo di spiegare come si fa a diventare grintosi perché grintosi si nasce ma grintosi si diventa. Come si fa a trasmettere il talento visto da uno che di talento ne ha tanto? In realtà non me ne sono mai preoccupato ho pensato sempre a fare le mie scale a casa per usare una metafora musicale del pianoforte e a provare a testare giorno dopo giorno i miei strumenti. Quindi in maniera molto giocosa divertente facciamo una chiacchierata portando esempi non chiaramente personali ma di grandissimi artisti attori cinematografici sportivi coach e anche imprenditori sperando che queste parole che questi ricordi queste esperienze possono in qualche modo incendiare l'animo dei giovani che saranno presenti ma anche di tutto il pubblico. La polizia ha arrestato un rumeno di 27 anni per i reati di furto danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. Gli agenti lo hanno individuato in una chiesa del centro storico con indosso un abito talare e i paramenti religiosi. Era intento a rovistare all'interno della sagrestia dopo aver aperto e danneggiato l'offertorio e un mobile da cui aveva asportato i soldi delle offerte e il calice sacerdotale. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha chiuso l'accesso della sagrestiesi e barricato all'interno solo quando la porta è stata scardinata è stata possibile bloccarlo. 67 tra abiti e gioielli le creazioni realizzate dagli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro proposte nel corso di una sfilata evento. Si è trattato di un progetto multidisciplinare. Sentiamo Antonio Capria. Il tempo poco clemente non ha rovinato i piani dei giovani ispiranti designer dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro le cui creazioni hanno trionfato sulla passarella nel corso della sfilata dal titolo Refashion Aid. Ben 67 tra abiti e gioielli le creazioni realizzate dagli studenti nell'ambito della scuola di Fashion Design guidata dalla docente Maria Saveia Ruga per una sfilata evento che ha coinvolto tutte le scuole dell'Accademia dando vita ad un progetto multidisciplinare in cui gli allievi si sono misurati nell'applicazione pratica delle competenze acquisite tra i banchi. La sfilata Refashion è stata interamente creata da 17 designer che sono i nostri allievi sia per quanto riguarda gli abiti che per quanto riguarda i gioielli hanno proposto dei loro capi saranno 67 le uscite che vedrete all'interno di questo nostro primo evento è stato fatto tutto da loro dal punto di vista delle creazioni degli abiti hanno collaborato alla regia al coordinamento dell'iniziativa i docenti siamo davvero solo un supporto per loro è importante che diventino dei professionisti questo è uno dei nostri obiettivi come docenti come Accademia e quindi questo è stato il primo tuffo nella realtà speriamo il primo di tanti i primi passi l'evento che si è tenuto nelle sale del complesso monumentale San Giovanni nel cuore del centro storico di Catanzaro è stato fortemente voluto dal direttore dell'Accademia Virgilio Piccari quale parte fondamentale di quel percorso di apertura dell'istituto all'esterno e di contaminazione del territorio con l'arte e la bellezza non è soltanto un'intenzione dichiarata quella di volersi a prera ma è un invito accorato a tutti i cittadini di Catanzaro affinché finalmente tutte le politiche si possono condurre al valore della bellezza ci teniamo immaginiamo di esserne capaci quindi ci esponiamo al giudizio di quanti intenderanno partecipare tra l'altro abbiamo organizzato anche una diretta streaming e questo è un proseguimento dopo l'accordo con la Banca d'Italia dopo la splendida mostra che abbiamo allestito in onore e in memoria di Tony Ferro questo è il terzo momento in cui finalmente si celebra il nostro cinquantennale lo voglio dire ancora una volta l'Accademia è vita e da quest'anno l'Accademia sarà in festa ma la cosa che a noi preme sottolineare è che sia in festa con tutti voi cittadini di Catanzaro i carabinieri di Crotone scandale e ciro marina hanno eseguito tre misure cautelari una in carcere una ai domiciliari e al terzo è stato vietato di avvicinarsi alla famiglia in tutti e tre casi si tratta di violenza sulle donne domiciliari per un uomo originario della provincia di Cosenza ma residente a Crotone indagato per atti persecutori dallo scorso maggio perseguitava l'ex compagna un altro provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 36enne residente a Ciro Marina per l'uomo è stata disposta la misura cautelare in carcere indagato per maltrattamenti in famiglia vessava la convivente originaria del Marocco è stato infine allontanato dalla casa familiare un 49enne residente a Crotone l'uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente in diverse circostanze la moglie da cui era stato già denunciato avrebbe aggredito anche la figlia 21enne domani il premio internazionale Gioachino da Fiore la cerimonia si terassa Giovanni Fiore coinciderà con i 40 anni di attività del centro studio Gioca Mimiti abbiamo sentito il presidente del centro studio il professor Giuseppe Riccardo Succurro il 2 dicembre prossimo celebreremo un importante evento culturale la consegna del premio internazionale Gioachino da Fiore al professor Alexander Pacioschi che è professore merito di storia medievale all'Università di Colonia ed è autore di moltissime pubblicazioni su Gioachino da Fiore in maniera particolare le traduzioni che mettono nelle condizioni la comunità scientifica di capire appunto il pensiero di Gioachino da Fiore quello che lui ha scritto si terrà anche la celebrazione dei 40 anni di attività culturale del centro che noi sintetizziamo con nove congressi internazionali internazionali svolti con 75 opere pubblicate e con oltre 850 seminari realizzati in Italia e all'estero Sport adesso con il turno in frasettimanale di calcio parliamo alla Serie C che sorride alla capolista Catanzaro che al ceravolo supera il Giuliano non va altri il pari invece il Crotone che per ben due volte è stato costretto a inseguire il Catanzaro in questo momento ha più 6 sul Crotone le dichiarazioni del tecnico giallorosso Vivarini e di quello rosso-blu Lerda abbiamo trovato una squadra che ha corso per all'infinito quindi di conseguenza non era assolutamente facile sbloccarla oggi abbiamo trovato proprio una prova di carattere di sofferenza noi dobbiamo metterci in testa che dobbiamo essere pronti anche a soffrire a cercare di non affidarci sempre solo all'organizzazione al gioco anche se poi a Sprazi abbiamo fatto anche vedere delle cose bellissime oggi mi piace proprio premiare il carattere lo spirito di questa squadra e soprattutto la voglia di volere il risultato ripeto oggi non era facile ci è voluto veramente una grande invenzione di Ghion che ha fatto un gol secondo me straordinario abbiamo rimontato due volte su un terreno di gioco che era praticamente impossibile poter fare calcio giocare però comunque devo dire che i miei ragazzi ce l'hanno messa tutta hanno cercato di fare di costruire di giocare contro una squadra che quando va in vantaggio si difende con tutti gli effettivi e oggi ho avuto anche alleato il campo credo che la mia squadra abbia fatto di tutto per cercare di vincerla poi potevamo anche prendere un gol in contropiede alla fine nella maniera più assoluta però mi sembra che posso rimproverare i miei diciamo i due episodi dove abbiamo subito le reti ecco quello potevamo fare molto meglio entrambi i casi specialmente nel primo per il resto poi la partita è stata fatta ripeto in condizioni molto molto avverse difficili e adesso è il momento delle previsioni del tempo come sempre a cura di trebimeteo.com un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo nella giornata di venerdì l'Italia continuerà a trovarsi inserita in una circolazione depressionaria presente sul Mediterraneo occidentale e che viene continuamente alimentata da fredde correnti artiche in discesa dal nord d'Europa dove insiste un campo di alta pressione vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra come una frequente nuvolosità interessa al nostro paese special centro nord la Sardegna dove sono attese anche delle piogge infatti osservando lo zoom delle precipitazioni notiamo notiamo come gran parte della Sardegna ma anche i settori tirrenici e anche il nord special nord est nell'arco del giorno verranno interessati da deboli precipitazioni che preannunceranno un weekend particolarmente instabile sul centro nord Italia vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso di venerdì avremo una giornata piuttosto nuvolosa a partire dalla Sardegna dalle isole maggiori sui versanti tirrenici con delle piogge deboli ma che comunque in maniera frequente interesseranno appunto il comparto tirrenico estendendosi poi anche a quello adriatico sconfinando fin sul triveneto deboli nevicati inoltre sulle Alpi sono attese nell'arco del giorno a partire dai 1000-1200 metri clima che resta comunque sempre particolarmente rigido e valori massimi che non andranno oltre i 10 gradi al centro nord per maggiori dettagli consultate l'app di Tribi Meteo ed è tutto per questa edizione della sera l'appuntamento è per il nostro tg esperia della notte buona serata